Salve a tutti da Riccardo della QSP Cars. In questo video vi mostro le barre portatutto originali Goodyear sviluppate specificamente per auto con corrimano longitudinale. Ne esistono varie dimensioni per molteplici veicoli. Vi ricordo che potete raggiungere il prodotto con il link a fine descrizione direttamente all'interno del nostro sito web. Partiamo confermando che è un prodotto Goodyear, brand leader del settore, eccellente nella qualità dei materiali, rifiniture del dettaglio e tatto. Queste barre vengono prodotte e studiate appositamente per veicoli con corrimano longitudinali, dall'aerodinamica al legame estetico. Sono prodotte in acciaio nero, quindi offrono un'elevata resistenza ai detriti di percorrenza ed agenti atmosferici. In questa versione, lunga 124 cm, hanno un peso totale di 1,7 kg a pezzo e sopportano un carico distribuito di massimo 70 kg. Quindi restano molto maneggevoli ma allo stesso tempo robuste. Posseggono un sistema di antifurto a doppia serratura su entrambi i lati, con in dotazione due chiavi. Si può facilmente notare la cura del dettaglio dal fatto che la parte di aggancio all'auto è rivestita completamente in gomma siliconica ed ABS, per non danneggiare il corrimano e fornire una presa stabile. Il montaggio è molto semplice e intuitivo, avviene ruotando la chiave e tirando il tappo di plastica. Successivamente è necessario ruotare il tutto in modo da far restringere l'aggancio sui corrimano longitudinali. Sono la base per il montaggio di pratiche sovrastrutture come porta bici, box porta pacchi, porta sci, porta snowboard, porta kayak. Insomma possiamo concludere affermando che si tratta di un prodotto che offre un design molto curato e un'affidabilità testata per trasporti. E' tutto da Riccardo della Quality SP Cars, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace ed iscrivetevi al nostro canale.